Era da tempo monitorato dai carabinieri che da diversi giorni lo avevano notato frequentare ragazzi e principali luoghi di aggregazione giovanile e finito così in manette Talbi Afif, 38enne tunisino, pregiudicato, pizzicato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile mentre cedeva alcune dosi di hashish per un peso complessivo di quasi 2 grammi a un 22enne vittoriese nella centralissima via Senia. L'attività, frutto di appositi servizi di osservazione e pedinamento per monitorarne i movimenti e le abitudini di vita, aveva consentito di appurare le strane frequentazioni del tunisino con diversi giovani. Alla fine i militari hanno sorpreso il 38enne nella mattinata di oggi intrattenersi con un ragazzo al quale dava furtivamente un piccolo involucro. Entrambi sono stati controllati. Addosso al vittoriese è stata trovata la droga mentre il tunisino aveva 10 euro in contanti ovvero il costo delle dosi appena cedute. Il pregiudicato è stato quindi arrestato e condotto nella caserma di via Garibaldi dove, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Qui resterà a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Francesco Riccio, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di spaccio. Il giovane assuntore invece è stato segnalato al competente ufficio territoriale del governo per detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente. Ora al vaio degli investigatori che stanno proseguendo le indagini, la posizione del tunisino per accertare l'eventuale complicità di altri criminali e il canale di approvvigionamento della droga. La sostanza stupefacente sequestrata è già stata inviata al laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa al fine di stabilirne il principio attivo e il numero di dosi ricavabili. Sequestrato anche il denaro contante. Grazie a tutti.